Vi vediamo subito dopo, intanto prego, si può accomodare nella postazione così iniziamo con la visione di questa slide. Questa immagine viene rappresentata la copertina della seconda edizione del libro La dieta è perfetta. Questa altra immagine viene rappresentata la copertina dell'edizione francese della traduzione del libro La dieta è perfetta. Il libro è venduto tramite il portale Amazon in tutto il mondo. Per presentare il mio libro ho intenzione di incominciare mostrando ai telespettatori questa figura. In questa figura viene mostrata una tipica locomotiva che è stato un mezzo di locomozione dei primi anni del secolo scorso. Questa locomotiva per poter funzionare, per potersi muovere, ricavava energia dalla combustione del carbone. Esattamente la reazione dalla combustione che avveniva tra l'ossigeno e il carbone. Questa combustione produceva energia necessaria affinché la locomotiva potesse muoversi e nello stesso tempo produceva come prodotti di scarto anidride carbonica e acqua. L'anidride carbonica ha formula CO2, l'acqua ha formula H2O, mentre l'ossigeno ha la formula O2. In questa figura viene mostrata la macchina del professore Puma. Il professore Puma è lo chef che ha fatto le ricette del libro. Anche la macchina del professore Puma, per potersi muovere, ha necessità di energia. Questa energia la ricava dalla combustione tra gli idrocarburi presenti nel diesel e l'ossigeno. Quindi la Fiat Steel del professore Puma, per potersi muovere, ottiene energia dalla combustione che avviene tra il diesel e l'ossigeno. Da questa combustione si ricava energia e, come prodotto di scarto, sempre anidride carbonica e acqua. Anche la mia macchina, cioè la Fiat Panda del dottor Baiamonte, per potersi muovere, necessita di energia. Questa energia la ricava dall'ossidazione che avviene tra il metano e l'ossigeno. Da questa combustione si ottiene energia necessaria per il movimento e, nello stesso tempo, si ottiene come prodotto di scarto sempre anidride carbonica e acqua. Allo stesso modo, il signor Dieta, questa figura viene mostrata il signor Dieta. Il signor Dieta è uno dei protagonisti del mio libro. Anche il signor Dieta, per potersi muovere, utilizza la combustione. Esattamente la combustione che avviene tra i nutrienti che sono presenti negli alimenti e l'ossigeno. Quindi, da questa combustione, il signor Dieta ottiene energia necessaria per poter fare il suo allenamento mattutino, per potersi muovere, e nello stesso tempo produce, come prodotti di scarto, anidride carbonica e acqua. Come potete vedere, dalla bocca del signor Dieta, fuoriescono anidride carbonica e acqua. Pensate al vapore acqueo che esce dalla vostra bocca durante una gelida giornata d'inverno. Naturalmente, l'energia che il signor Dieta ottiene dall'ossidazione degli alimenti non serve solo per il suo movimento, ma serve anche per potersi mantenere in vita. In questa figura viene mostrata due tipiche strutture molecolari dei nutrienti che si trovano agli alimenti. Esattamente la struttura molecolare del lipide, disegnato ora, e la struttura molecolare di un polisaccaride. Queste sono delle tipiche strutture molecolari che si trovano nei nutrienti degli alimenti. Nel primo caso si tratta di un grasso, nel secondo grasso di un carboidrato, esattamente il glicogeno. Anche in questa figura vengono mostrate le strutture molecolari. Queste strutture molecolari sono in alto la struttura molecolare della lignina, che è il componente fondamentale del carbonio, mentre in basso, a sinistra, la struttura molecolare di un tipico idrocarburo che si trova nel diesel. Mentre a destra viene mostrata la struttura molecolare tridimensionale della molecola di metano. Ora, se io sovrappongo le due figure, noterete che la struttura molecolare dei nutrienti che si trovano agli alimenti, cioè esattamente la struttura molecolare del libide, la struttura molecolare del core carboidrato, la struttura molecolare della lignina, la struttura molecolare del metano e degli idrocarburi, hanno come base il carbonio. Quindi, il signor Dieta, la macchina del professore Puma, la macchina del dottor Baiamonte e la locomotiva, per funzionare, devono rispettare gli stessi principi della fisica, che sono i due principi fondamentali. Cioè, il primo principio della termodinamica e il secondo principio della termodinamica. Esattamente, il principio della conservazione dell'energia e il principio della conservazione e il principio dell'entropia. Il principio della conservazione dell'energia è il primo principio, il principio dell'entropia è il secondo principio, che sarebbe l'aumento del disordine verso l'esterno. Questa figura viene mostrata a un crattagielo alto 500 metri. Questa foto l'ho scattata io quando sono stato a New York a cercare gli editori americani. Viene mostrata anche, in questa figura viene mostrata anche il signor Francesco, che è il protagonista principale del mio libro. Nel capitolo più importante del libro La dieta perfetta, che si parla della relazione tra energia e alimenti, faccio fare a signor Francesco la fatica di salire un crattagielo alto 500 metri, naturalmente a piedi, utilizzando le scale. Ebbene, supponendo che il signor Francesco ha anche un peso, espresso in chilogrammi che è di 90 chili, ho calcolato che il signor Francesco, per salire un crattagielo alto 500 metri, fa una fatica meccanica, esattamente un lavoro meccanico, di 441.000 joule, che corrisponde a 105 kilocalorie, esattamente meno di 30 grammi di grissino. Questo capitolo, questo esempio, questo mi è servito per prendere il lettore per mano e piano piano portarlo a fare un percorso dietetico in modo che a lui gli vengano spiegati, in maniera semplice, ma scientificamente rigorosa, tutti i segreti e i meccanismi della dietetica. Perché credere ai calcoli che io ho fatto nel mio libro? È semplice, perché questo metodo è servito agli scienziati della NASA, i stessi calcoli che ho utilizzato nel libro La dieta perfetta sono gli stessi calcoli che hanno utilizzato gli scienziati della NASA per far sì che l'uomo potesse arrivare sulla Luna e poi ritornare sano e salvo. Ma sono anche gli stessi calcoli che gli scienziati della NASA utilizzano oggi per i viaggi spaziali attuali. Quindi, che cosa voglio comunicare col mio libro? Semplicemente una cosa, che il segreto della dietetica è solamente uno, cioè non c'è nessun segreto. È importante sapere infatti che in ogni teoria dietetica, dieta Atkinsi, dieta Zona, Low Carb, Malibu, Okinawa, eccetera, la relazione tra energia e la quantità di alimenti è sempre la stessa. O si parla di una dieta ipocalorica, o di una dieta normocalorica, o di una dieta ipercalorica. La dieta ipocalorica va da 1200 a 1500 kcal, la dieta normocalorica da 1600 a 2000 kcal, la dieta ipercalorica da 2100 a 2500, addirittura qualche volta fino a 3000 kcal. Comunque, sempre e solo un'assunzione di una quantità di alimenti moderata, con pochi grassi, è un'adeguata attività fisica. Il metodo dietetico del dottor Baiamonte ha la caratteristica di indicare al lettore la giusta rotta da seguire, per raggiungere o avvicinarsi al proprio peso forma. Ma questa rotta viene eseguita da soli? No, non la seguite da soli. La seguite in compagnia con un vostro grande alleato, che è il metabolismo di base, che può essere considerato il vostro angelo custode, vi accompagna mano a mano, passo passo, nel vostro percorso dietetico. Il metabolismo di base, o metabolismo basale, che dir si voglia, è quell'attività metabolica dell'organismo umano, che è in funzione anche quando l'uomo si trova in completo riposo, oppure svolge una comune attività quotidiana. Lo dovete considerare di vostro miglior alleato, infatti, esso ha un consumo energetico corrispondente al 70-80% rispetto a tutte le chilocalorie che in media un uomo e una donna consumano ogni giorno. Queste calorie corrispondono a circa 2.500-3.000 kilocalorie al giorno per l'uomo e 2.000-2.500 kilocalorie al giorno per la donna. Nel mio libro vengono proposte quattro diete di base personalizzabile. Queste diete possono essere personalizzate sia dal punto qualitativo sia dal punto di vista quantitativo. Le diete possono essere, specialmente con la seconda edizione, possono essere personalizzate dal punto di vista quantitativo grazie ad un altro importante concetto che è il concetto del fattore di incremento energetico. Voglio anche far capire che il metabolismo di base è quel particolare meccanismo che vi permette di riposare mentre voi siete in completo riposo. e soprattutto vi permette di dimagrire mentre voi state facendo una semplice passeggiata a mare oppure una semplice passeggiata in campagna o in città. E non occorre fare una grande fatica come la stanno facendo questi ragazzi rappresentati in questa slide. Perché credere al mio metodo? perché gli stessi calcoli che io ho utilizzato nel libro La dieta perfetta cioè l'evoluzione dei calcoli che io ho utilizzato La dieta perfetta li ho utilizzati li ho utilizzati a patologia quando sto facendo la testa di specializzazione per mettere a punto un protocollo che riguarda le stazioni del DNA con la tecnica del fenolo cloroformio che oggi ho utilizzato tutti i migliori laboratori di ricerca scientifica al mondo. Questa slide viene mostrata la pagina più importante della mia tesi laurea vengono anche mostrati i calcoli di fisica quantistica che ho utilizzato questi calcoli sono l'evoluzione dei calcoli che io ho utilizzato nel libro La dieta perfetta quindi i calcoli del libro La dieta perfetta trattano una fisica che è applicata alla termodinamica classica mentre questi calcoli che io ho utilizzato a patologia quando ero specializzato in patologia clinica parlano e trattano dei calcoli che si utilizzano nella termodinamica quantistica questi calcoli come ho detto poco fa mi sono serviti per mettere a punto un protocollo di estrazione del DNA che oggi è utilizzato nei migliori laboratori di ricerca scientifica per concludere sento il dovere di dire che questo semplice manuale di nutrizione umana è in vinte conti un libro onesto semplice e alla portata di tutti se viene letto con un poco di fiducia e attenzione potrà essere molto utile a voi e a vostri cari grazie per la vostra attenzione bene grazie davvero una presentazione che ci ha fatto ci ha aperto anche tantissimi scenari io ringrazio voi per essere stati presenti noi ringraziamo te grazie a te anche questa puntata è inserita ovviamente sul nostro portale siciliatv.org sarà presente già nei prossimi giorni quindi non mi resta altro che dirvi di provare ad acquistare il libro La dieta perfetta del dottor Baiamonte e di scoprire quali sono i veri segreti per una dieta perfetta grazie a voi arrivederci grazie